Per ora si chiama solo Planet Nine, ovvero pianeta numero 9. L'hanno chiamato così Constantine Batigin e Mike Brown, i due ricercatori del Caltech, il Californian Institute of Technology, che nel loro ultimo articolo, pubblicato sulla rivista Astronomical Journal, indicano la presenza molto probabile di un corpo celeste della massa di circa 10 volte quello della Terra e in orbita attorno al Sole a una distanza di circa 20 volte superiore a quella che compete a Nettuno. Tradotto in altri termini, il nono pianeta si troverebbe a 90 miliardi di chilometri dal Sole, impiegando tra 10.000 e 20.000 anni per compiere un'orbita intera. Il lavoro di Batigin e Brown è solamente teorico e basato su simulazioni al calcolatore. Per confermare queste ipotesi bisognerà riuscire a osservare direttamente questo, per ora, fantomatico pianeta, come spiega ai nostri microfoni Giovanni Valsecchi, ricercatore dell'INAF ed esperto di meccanica celeste. Questo pianeta, se esistesse veramente, avrebbe anche delle conseguenze su quello che noi conosciamo riguardo alla parte più interna della cosiddetta nube di Hort, perché questo pianeta si troverebbe praticamente nella zona di confine fra la regione planetaria e quella che noi chiamiamo nube di Hort interna. L'interesse che questa proposta suscita è anche questo, cioè di far rivedere e ripensare i calcoli e le simulazioni che sono state fatte finora.